Per il nuovo candidato sindaco di Genova del centro-destra non sono disponibili a vivere film come quelli degli zombie con i morti che resuscitano tutti i giorni a guastare la festa di chi ha già vinto. Lo ha detto il presidente della regione Giovanni Totti, stamani a Genova, Palazzo San Giorgio, a margine di un incontro istituzionale. Totti in particolare ha fatto riferimento all'ipotesi della presenza di alcune liste civiche, sottolineando che chi ha avuto esperienze civiche fallimentari un po' roccambolesche che spesso hanno danneggiato il centro-destra oggi faccia il favore di stare nella coalizione con il dovuto garbo senza disturbare la corsa. Totti ha infine spiegato che il candidato sindaco di Genova, così come alla Spezia, sarà deciso dall'attuale maggioranza che governa la Liguria dopo la prova di fiducia ricevuta dai cittadini vincendo le elezioni regionali e a Savona. La decisione sarà presa con i segretari politici dei partiti di maggioranza, Edoardo Rixi, Matteo Rosso, con le loro dirigenze nazionali e con area popolare che in Liguria governa con il centro-destra e quindi con Andrea Costa.